Piccoli gesti, grandi crimini e la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono di mozziconi di sigaretta nell'ambiente e con attività utili a raccogliere dati necessari per capire e prevenire il fenomeno realizzata da Marevivo in collaborazione con Battitalia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e del Lanci. Il progetto è stato presentato sulla scena del crimine ovvero piazza del Ferrarese a Bari, spesso luogo di abbandono di rifiuti. Siamo contenti di ospitare questa campagna di sensibilizzazione di Marevivo, una campagna per sensibilizzare i cittadini che se proprio devono fumare, io non fumo da due anni, mi sento molto meglio, perlomeno non devono buttare i loro mozziconi per strada, quindi si sono inventati questo aspetto scenico perché l'obiettivo è questo e per questo che nei prossimi giorni distribuiranno posacenere e portatili in tante zone della città. Mi raccomando non abbandonate i vostri rifiuti, non fate quei piccoli gesti che sono automatici in cui si butta il mozzicone di sigaretta per terra. Il titolo della campagna piccoli gesti grandi crimini non è casuale, il piccolo gesto che facciamo in maniera a volte proprio senza pensare assolutamente nasconde invece dietro di sé un grande crimine. Quando parliamo dei mozziconi di sigaretti abbandonati ogni anno dobbiamo usare la parola trilioni, quindi il fenomeno è molto importante, tutto quello, tutto il contenuto nocivo del mozzicone di sigarette finisce in mare e quindi finendo in mare inquina e provoca negli animali marini e in tutto l'ecosistema marino un grandissimo danno.